Partiamo dall'Ariete. L'esperienza porta buoni frutti, sussiste la possibilità di ricevere un'offerta di lavoro consona le vostre capacità ed economicamente interessante. Toro, con il bellissimo quadro astrale che avete potreste ricevere l'Oscar del successo per i risultati che riuscirete a ottenere in campo lavorativo, oppure anche in campo sociale, per bei momenti che condividerete con la persona amata. Gemelli, vi sentirete un po' confusi, l'umore è meno solare del solito, per essere felice avete bisogno di calore intorno a voi, pronta adesione alle vostre idee, calda accoglienza e complicità da parte degli altri. Cancro, le stelle rafforzano la vostra socievolezza, la comunicativa, la simpatia, l'ambizione. Ciò nonostante non riuscirete ad essere totalmente sereni. Leone, stimolate l'ambiente lavorativo con nuove proposte, cercate di essere attivi e perspicaci. I vostri avversari mangeranno la polvere. Datevi da fare, impegnatevi per migliorare posizione e guadagni. Vergine, le stelle danno una spinta ai progetti, caricandoli di nuova energia qualora ci fossero interferenze da parte di chi lavora con voi. Forse è il caso di dare una strigliata all'ambiente, mettendo in campo le vostre migliori qualità e motivazioni. Bilancia, forma e umore non sono al massimo. Cercate allora di condurre una vita più possibile regolare, concedendovi tutte le ore di sonno che il vostro corpo richiede. Scorpione, semaforo acceso sul verde. I programmi si stanno realizzando grazie al vostro costante impegno e a un quadro astrale magnifico. Per una volta potete contare anche sul supporto di un amico competente. Sagittario, martedì scandito da alcune dissonanze celesti, è giunto il momento di rivedere alcune delle vostre collaborazioni. Capire ciò che vi possono offrire è quello che potete dare voi. Rimandate in incontro una decisione di una certa importanza. Capricorno, il buongiorno si vede dal mattino e a giudicare dall'umore brillante la giornata si annuncia dinamica. Novità, sorprese, progetti vincenti. Acquario, migliora l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. Aumenta per esempio il vostro prestigio, senza ombra di dubbio. Sarà per questo che nel lavoro, nella professione e nella vostra attività procedete speditamente. Pesci, la vita a due vi sta dando molte soddisfazioni, tanto che potreste decidervi a realizzare un desiderio di convivenza che avete tenuto finora in sospeso. Una persona conosciuta di recente forse farà breccia nel vostro cuore, sollecitando la vostra curiosità. Grazie a tutti.